Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Ma io sui danni sono più cauto, però noi abbiamo una certa visione dell'Europa. Noi difendiamo lo Stato di diritto. I nostri alleati sono la Germania, la Francia e gli altri paesi europei che difendono lo Stato di diritto. Primo punto. Secondo, quindi io cosa farà il prossimo governo, non lo so, però nella ricerca mi sono chiesto com'è che uno si sceglie i partner? Si sceglie sulla base di una certa comunanza ideologica sicuramente, ma un'altra considerazione che bisogna avere in mente è l'interesse degli italiani. E cioè, bisognerebbe chiedersi, quali sono i partner che mi aiutano a proteggere gli interessi degli italiani meglio? Chi conta di più tra questi partner? Datevi le risposte voi. Accidenti.